neanche il tempo di accorgermene e la settimana al mare è già quasi terminata ma sono riuscito nonostante tutto il relax che a cui non ho potuto dire di no sono riuscito comunque a registrare un video e ho appena finito di registrare quasi tutte le riprese aggiuntive mi mancano di fare due fotografie e uno schema che farò in post produzione è un breve episodio delle domande e risposte che mi hanno segnato da tanto tempo e di cui volevo parlare la cosa bella è che questa volta ho fatto tutto il video la parte parlata con il 50 mm e posso dire che con l'adattatore fringer da ef a x mount funziona benissimo anche il 50 mm ottenuto per tutto il tempo la messa a fuoco continua quella che riconosce appunto l'occhio e da quello che ho visto finora sul portatile il risultato mi è sembrato ottimo per il resto la settimana è iniziata in maniera un po burrascosa il primo giorno di quando siamo andati con claudia a capa albio c'era un vento del pt le cose che ha tenuto un po lontano la gente però un po dopo un po anche noi siamo dovuti scappare perché cominciava a essere un temporale le onde sempre più alte mentre il giorno dopo mentre stavamo tranquillamente la sera a guardare un po di televisione improvvisamente abbiamo sentito l'odore di fumo e abbiamo scoperto che dopo dei fuochi artificiali che hanno fatto qui vicino praticamente è andata a fuoco una parte della pineta e una parte di tutti gli arbusti che c'erano vicino alla ferrovia quindi abbiamo dovuto prendere tutte quante le cose più importanti ovvero macchine fotografiche portatili switch e un po di vestiti e abbiamo caricato tutto sulla macchina e ci siamo per sicurezza allontanati però fortunatamente dopo un'oretta un'oretta e mezzo con che figgere il fuoco hanno spento tutto e siamo potuti rientrare in casa senza aver avuto incidenti più seri l'esperimento dello smart working dal mare per claudio è stato un successo e adesso è appena finita la sua settimana lavorativa mentre io ero a zonzo a fannulloneggiare quindi per oggi chiudo qui e adesso andiamo a prenderci dei cuoppi perché ci vuole un po anche di fritto al mare ok sono tornato dal mare ho pubblicato il video che stavo preparando e che potete anche andare a vedere se ve lo siete perso è venuto breve mi piace come formato e devo dire che da quello che vedo come risposta da parte di voi che mi seguite comunque il video è piaciuto però non mi dimentico del corso di fotografia e infatti oggi sono nello studio fotografico di per due lighting sto preparando la seconda parte dell'episodio sul bilanciamento del bianco ero partito con un'idea un po più semplice però chiaramente come vedete alle mie spalle ho già cominciato a costruire un piccolo set sto usando gli amiibo di link e della piranha plant di super mario e adesso sto pensando che forse visto che ho messo un po di verde dietro vorrei mettere un po di ciottolato o di sassi come pavimento per rendere una foto un po più simpatica e l'episodio del corso di fotografia sarà principalmente incentrato su argomenti più avanzati del bilanciamento del bianco come per esempio la gestione di una situazione con diverse luci con temperature colori diverse una grande novità per me che apre alcune possibilità per il futuro è il fatto che finalmente qui nel paese dove ho lo studio fotografico è arrivata la fibra e quindi ho finalmente un download e un upload soprattutto con una velocità più serie quindi posso cominciare a pensare di caricare online dei file più pesanti come dei video a risoluzioni maggiori e soprattutto posso anche fare degli streaming degli eventi live che è un'idea che mi ha sempre stuzzicato per esempio se mi metto a fare un episodio del corso di fotografia oppure uno shooting fotografico di oggettistica per esempio invece di farlo da solo potrei fare un evento live dove sia posso avere un po le opinioni di chi segue sia posso condividere un po il dietro le quinte a livello completo e interattivo del lavoro che faccio e una cosa che è divertente che ho ritirato fuori e che adesso ho fatto anche una piccola miglioria è questa basetta per delle teste fotografiche delle ball head fotografiche che può sembrare una cosa molto semplice una tavoletta di legno con una vita al centro ma devo dire che è un tipo di supporto che mi trovo a utilizzare tantissimo e sto pensando come migliorare quest'idea per renderla un po più presentabile un po più professionale anche come aspetto ma oggi l'aggiunta che ho fatto ho messo dei gommini sotto per tenerla ferma e questa la vedrete nel corso di fotografia mi è venuto in mente di citarlo perché è una cosa che potreste aver visto in altri video ed è un'idea che vorrei magari sviluppare un po meglio e poi magari farci un video apposito una guida su come si potrebbe creare un supporto di questo genere che per la fotografia quando si lavora su un tavolo effettivamente è molto comoda e con un po di sassetti e un vaso preso dal balcone un esempio che poteva essere un po scarno per il video del corso di fotografia è diventata una bella fotografia divertente e l'unica cosa che mi manca da fare adesso è allineare bene i sassetti così da coprire le basette sulle quali ho messo un pezzo di carta per non rovinare la plastica così nascondo la basetta sotto ai personaggi devo aggiustare un po la composizione e domani mattina inizio a fare la registrazione del parlato per questo episodio del corso di fotografia intorno a me il set come al solito è la luce principale che è la pole orb con dentro delle luci di quelle a pannocchia potenti e qui c'è un faretto led con una gelatina blu che fa l'alone che è intorno a me mentre qui a sinistra abbiamo il pannello led della kf concept e questo qui invece è il photix m180 che ho già recensito in passato su player 2 lighting e direi di chiudere questo vlog con la giornata nella quale ho finito di scrivere l'articolo per il nuovo episodio del corso di fotografia e il video è già pronto devo solo pubblicare il tutto ma sto aspettando qualche giorno per vedere se c'è una società che è interessata a sponsorizzare anche questo video di player 2 lighting e a proposito di come supportare p2l ho appena attivato su youtube una nuova funzionalità che è il tasto super grazie o super tanks con la quale in qualsiasi video del corso di fotografia ma in generale del canale potete fare un commento che andrà più in evidenza e insieme a questo commento potete fare una donazione di una cifra che volete voi come sempre però se per supportare player 2 lighting c'è anche il metodo classico ovvero se acquistate utilizzando i link di amazon.it che trovate nelle descrizioni dei video o su player2.com voi non avete nessuna spesa in più ma una piccola percentuale di quell'acquisto va al progetto di player 2 lighting e potremo utilizzarlo come budget per fare nuovi video a proposito di nuovi video se avete idee su un episodio visto che ho fatto adesso un episodio del corso base se avete idee o richieste invece per episodi del corso avanzato scrivetele qui nei commenti perché ancora non ho deciso precisamente quale sarà il prossimo episodio del corso avanzato posso dirvi che però uno dei video che già a cui già sto lavorando invece la recensione slash tutorial del pannello led della kf concept in cui mostrerò come utilizzare questo tipo di pannelli per fare fotografie e forse anche video di still life in maniera un po pubblicitaria come sempre grazie per aver visto questo blog e ci vediamo al prossimo ciao